Il convegno ha avuto la caratteristica di mettere sul tavolo i problemi concreti. Non si è ridotto a una semplice difesa del Servizio Sanitario Nazionale, che è un patrimonio a cui tutti teniamo e che tutti vogliamo difendere anche in modo molto trasversale, ma si è discusso in concreto di quali siano i problemi di sostenibilità. Un dato eclatante è stato quello della grande quantità di risorse che i cittadini destinano al privato puro, circa 41 miliardi di euro l'anno su 136 miliardi di Fondo Sanitario Nazionale. Questa quota riporta il nostro Paese vicino al rapporto spesa sanitaria-prodotto interno lordo degli altri Paesi europei, anche se non siamo neanche qui nelle prime posizioni, ma ci fa interrogare su come queste ingenti risorse potrebbero essere destinate ad un uso più appropriato, forse anche più etico e ricondotte in qualche modo a una tutela della salute che garantisca sia uguaglianza che equità. E si è discusso di questo. La soluzione proposta dai più è stata quella di andare verso un progressivo rifinanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, graduale, ovviamente viste le risorse limitate e che garantirebbe di mantenere un sistema veramente fondato sulla fiscalità generale e che garantisca i principi costituzionali di tutela della salute. L'alternativa potrebbe essere solo quella di introdurre nel sistema elementi di mutualità, anche di mutualità etica, ma questo comporterebbe aumento di spese generali, comporterebbe delle diseguaglianze e non è stata l'ipotesi che anche i relatori più vicini ai centri decisionali hanno sostenuto. Quindi l'auspicio è che quanto espresso rispetto a un concreto sostegno in termini di risorse al Servizio Sanitario Nazionale trovi poi una sua quantomeno progressiva è graduale concretizzazione, onde evitare che il nostro servizio scivoli lentamente verso un modello puramente assicurativo profit che rischierebbe poi di diventare irreversibile e senza introdurre cesure immediate potrebbe poi rappresentare un lento spegnersi del Servizio Sanitario. Tutti speriamo che questo non avvenga e tutti gli stakeholder su questo si sono detti d'accordo.